Bene, finalmente torno a casa e racconterò a Giuliano delle incredibili avventure che ho vissuto oggi. Giù, sono a casa. Baby, sei una bomba. Mi fai esplodere di passione. C'è qualcuno in casa? Ma c'è un creeper! Giuliano, ti salvo io! Fermo lì. Creeper, guai a te se gli alzo un dito, è la mia ragazza. Cosa? È un creeper? È la tua ragazza? Non vedi che è un creeper rosa? È un creeper amichevole. Eh sì, in effetti rosa è rosa. Ma non era meglio una lupa per te? No, le lupe sono troppo... allupate. Ok, Giuliano. Se questa è la tua scelta come compagna di vita, io non ti giudico. Mi limiterò ad andarmene e lasciarti solo. Ora che Giuliano si è trovato una ragazza, io sono rimasto solo. Con chi le farò le intro d'ora in poi. Salve a tutti i Blazers, benvenuti in questa nuova mod review della settimana. Ragazzi, oggi andiamo a recensire una mod che si chiama Elemental Creeper e che è una delle mod più famose di Minecraft, penso, che semplicemente aggiunge un sacco di creeper nuovi, di vari tipi, appunto creeper elementali, quindi c'è quello del fuoco, dell'acqua, della terra, più cose abbastanza estroverse, e andremo ovviamente a vederli tutti insieme. È la mod adatta a tutti gli amanti dei creeper, insomma, so che tanti di voi adorano i creeper, è così bello vedere le proprie case che esplodono e saltano in aria, grazie ai nostri amichetti verdi, che d'ora in poi avranno tanti nuovi amici, oltre che verdi, blu, rossi, bianchi, per distruggere in tutti i modi le vostre case. Insomma, è la mod dei masochisti. Ragazzi, salutiamo anche Giuliano, che oggi si è chiuso in questo bunker, perché è un fifone di merda, aveva paura delle esplosioni dei creeper, e nel mentre lui se ne sta lì al sicuro, noi iniziamo prendendo questa prima fila di uova di creeper, che andremo poi a provare tutti insieme, abbastanza lontano, perché sennò fanno dei danni enormi, tipo, ne avevo provato uno lì, guardate che cazzo mi ha spawnato. Allora, come prima cosa abbiamo il creeper delle fiamme, il creeper del fuoco, che all'esplosione spawnerà fiamme in giro per il vostro mondo, e questo è abbastanza semplice da comprendere, poi ve lo faccio anche vedere comunque, come tutti gli altri. Abbiamo poi il creeper dell'acqua, che logicamente al posto di spreddare le fiamme, questa volta spredda l'acqua. Abbiamo poi quello del fulmine, che alla sua esplosione spawnerà anche un fulmine. Abbiamo il creeper dei biscotti, che vicino a questi altri creeper, boh, non ha molto senso, però sì, vi spawna dei biscotti all'esplosione, e non fa danni al mondo, quindi è un creeper diciamo gentile. Poi abbiamo il dark creeper, che è un creeper oscuro, che vive la notte, e che come caratteristica è il fatto che se esce di giorno, si brucia come se fosse uno zombie, per il resto non è che sia molto utile. E abbiamo anche la sua controparte, il creeper di luce. Il creeper di luce spawnerà un sacco di glowstone, nel momento della sua esplosione, in questo modo illuminerà il vostro mondo, al contrario della sua controparte, logicamente. Abbiamo poi anche il creeper della terra, quindi gli elementi, c'è anche la terra ovviamente, che nel momento della sua esplosione, riempirà tutto di terra odiosa, farà tipo una sorta di griffata, che poi andremo a vedere. Infine per il momento, prendiamo anche il creeper di lava, che funziona come quello d'acqua, ma al posto dell'acqua, spredderà della lava. Per cui ragazzi, allontaniamoci un po', andiamo tipo qua sulle montagne, va benissimo, direi tipo qui, ecco perfetto, qui direi che va bene. Iniziamo con il creeper di fuoco, il creeper di fuoco, come abbiamo detto, creerà un'esplosione di fiamme, tutto attorno a sé, guardate anche l'area, è abbastanza grande, mi sono messo proprio qui lontano dagli alberi, per non far alimentare l'incendio, e mi scuseranno questi poveri polli, che stanno morendo malissimo, comunque poi lo possiamo spegnere, perché abbiamo anche il creeper d'acqua, che ovviamente spawna delle sorgenti d'acqua, che sono tipo buggate, perché in teoria dovrebbero scorrere, invece sono rimaste qui. Il creeper dei fulmini, ovviamente spawna un fulmine, lo abbiamo sentito, non l'abbiamo visto, in questo caso non so, se è colpa delle shaders, o se per il fatto che è semplicemente giorno, e quindi potrebbe spawnare il fulmine, solo durante le tempeste, abbiamo poi invece quello dei biscotti, quello dei biscotti, non fa nessun danno, ma semplicemente ti dà da mangiare, anzi cinque simpatici biscottini, che vabbè, ti possono anche far comodo volendo, trovi un creeper, ti caghi in mano, e poi invece ti voleva regalare dei biscotti, quello scuro ragazzi, come detto, prende danno durante il giorno, perché va a fuoco con la luce solare, e all'esplosione, puff, non fa niente, la sua controparte, quello di luce, è quello che spawna la glowstone, e come vedete ne mette anche un bel po', non posso dire se negativo o positivo, perché magari tu sei in una grotta, te ne trovi uno, questo esplode, ti illumina pure la grotta, e in un certo senso previene lo spawning di altri mob, però sì, è abbastanza fastidioso, che magari nel tuo mondo esplode, e ti causa tutti questi blocchi, che insomma, ti riempiono il mondo così a caso, e può dare un po' fastidio, sicuramente però, è assolutamente peggio quello di terra, perché ragazzi, quello di terra, ti spawna, un casino di terra tutto in giro, messa anche male, quanto può dar fastidio una cosa così, guardate, non lo so, immaginate, ecco, di avere la vostra bella foresta fuori dalla casa, vi arriva sto stronzetto qui, che tra l'altro si confonde anche nella terra, perché guardate che texture c'ha, esplode, e ti fa sta merda, cioè quanto può dar fastidio, preferivo l'esplosione classica, il buco, così poi tu lo ripari, finisce lì, no, invece qui ti devi anche fare la fatica, di togliere tutta la terra, ottimo direi, mentre quello di lava, ragazzi, ovviamente spredderà la lava, tra l'altro ha questo colore rosino, molto simpatico, e invece, bam, sorgenti di lava fastidiose, che daranno fuoco a tutto, ma il divertimento non è finito, perché abbiamo ancora un sacco di creeper da provare, il primo della prossima serie che proveremo, si chiama Reverse Creeper, e quello che fa, è ribaltare, una porzione di mondo, diciamo quella, coinvolta dall'esplosione, che è una cosa un po' strana da dire, ma poi lo vedremo insieme, e sarà molto più chiaro di così, comunque abbiamo quello di ghiaccio, che ovviamente spawna del ghiaccio, oltre a lasciare anche la neve a terra, tipo uno snow golem, abbiamo quello rosa, che è il friendly creeper, che è amichevole, semplicemente, e sulla pagina della mod diceva, che può avere dei figli, questo creeper, ma che è anche, è cannibale, quindi, wow, è un po' un controsenso, cioè tipo è amico tuo, ma è ostile con se stesso, non si capisce, poi abbiamo quello dell'illusione, che vi darà l'illusione ottica, di moltiplicarsi, dopo ve lo faccio vedere in survival, questo perché è molto carino, abbiamo quello psichico, che dovrebbe farti levitare, nell'aria, e poi abbiamo quello ragno, che invece spawnerà le ragnatele, per l'appunto, questa robina qui, dietro di noi, abbiamo poi quest'altro creeper qui, quello dell'aria, che è veloce come il vento, ma che scompare nell'aria, che boh, cioè che senso ha, comunque, vabbè, è una cosa un po' particolare, diciamo che è un troll, ti fa credere che esplode, e poi scompare così nell'etere, e poi abbiamo quello a idrogeno, che ti brucia, o ti avvelena, questa cosa non l'ho ancora provata, ovviamente mi sono voluto tenere, giusto un pochino di creeper, come sorpresa, per vederli assieme a voi, così per l'effetto sorpresa, e penso sia una roba tipo, radiazioni, di una bomba idrogeno, comunque, lo scopriremo insieme, allora, iniziamo dal creeper reverse, quindi se noi lo facciamo spawnare, tipo, qui, dove c'è, un po' di blocchi, con anche, tra l'altro, alla faccia il contrario, bellissimo dettaglio, con anche un po' di erba, ecco, lui esplode, e avete visto, ha creato questa struttura, che in realtà, non è altro che, la porzione del mondo, dove è esploso, come vedete qui, che viene presa, e capovolta, perché, cioè, non lo so, non so il motivo, però, è figo, immaginate se vi succede davanti alla casa, non è figo per niente, quello, e poi abbiamo quello, di ghiaccio, che è un, bianco candido, e vedete, lascia anche la striscia di neve, se te lo trovi in un biome nevato, auguri a vederlo, o comunque, spawna, della simpatica neve in giro, che vabbè, può anche essere utile per farmare, a me la neve piace anche, però, messa così, dà abbastanza fastidio, effettivamente, il creeper amichevole, è tipo un normale creeper, anche se, fa poco danno sulla pietra, non è un po' poco, come esplosione, ma vabbè, comunque, diciamo, è neutrale, cioè, si esplode, spacca tutto, fa danno, però, se tu non lo tocchi, non ti fa niente, perché appunto, è amichevole, come fosse un enderman, finché non gli dai fastidio, non ti fa nulla, e poi abbiamo quello dell'illusione, allora, ragazzi, fatemi preparare la modalità creativa, per quando torneremo indietro, ecco, così, vi faccio vedere, cosa succede con questo creeper, quando lui mi vedrà, non ho messo la creativa, no, perché ho fatto game rule, sono stupido, quando lui ti vedrà, si moltiplica, ragazzi, si moltiplica, perché appunto, controlla le illusioni, e ti fa, credere, che ce ne siano, di più, però, ora, torniamo in modalità creativa, avete visto, il clone esploso, non ha fatto niente, perché era appunto un clone, questo è un altro clone, non dovrebbe far nulla, questo è quello vero, dovrebbe esplodere, normalmente, infatti è stato così, proviamo ora, a far esplodere, quello psichico, quello psichico, è uno di quelli, che non ho provato, per tenermi la sorpresa, insieme a voi, non ha fatto niente, quindi proviamo in modalità, sopravvivenza, vediamo se mi fa, volare, se mi fa fare qualcosa, ho un po' di paura, si, mi manda in aria, e poi mi fa cadere, ok, semplicemente esplode, non ti fa nulla di che, perché c'è un altro clone qui, muori subito, non fa danno, né a te, né all'ambiente circostante, ma ti fa saltare in aria, che è comunque una cosa originale, mentre, quello ragno, ragazzi, a parte, che è veramente inquietante, guardate quanto è brutto, quando esplode, genera, un sacco di ragnatele in giro, ma proprio un sacco, e questa forse è la cosa, più fastidiosa, tra, quello di terra, quello di neve, questo qui è veramente odioso, e in più ti avvelena, così, giusto per raggiungere, un'altra rottura di palle, mentre quello, ragazzi, del vento, è il più bellino, perché quando esplode, se, riusciamo a prenderlo, perché è veloce, vedete, è scattante, scappa, però quando esplode, non fa assolutamente nulla, infine abbiamo quello idrogeno, che, oh mio dio, è proprio radiattivo, facciamol'esplodere, fa un botto gigantesco, e tra l'altro, ha spawnato un ender creeper, perché, e ti da un wader, ok, quindi la radiazione, diciamo, della bomba idrogeno, viene resa con il wader, ok, questo non l'avevo provato, l'ho provato insieme a voi, e devo dire che ci sta, è abbastanza originale, l'esplosione di quello idrogeno, ha fatto saltare, gli time frame da qui, che palle ragazzi, veramente che palle, vabbè, ok, eravamo arrivati, a questo qui, quindi andiamo avanti con, Giuliano che mi segue, se spaventate, è uscito dal bunker, ok, stai qui seduto, non ti preoccupare, abbiamo l'ender creeper, che prendiamo subito, e che ovviamente, si teleporterà in giro, abbiamo quello, della roccia, che spaccherà solamente la roccia, e ne spacca tanta, abbiamo quello che fa, un'esplosione più grande, che è il creeper solare, il creeper torta, che spawna la torta, con quattro torce in giro, così, tanto per fare, simpatico, quello dei fuochi d'artificio, e si capisce che cosa fa, abbiamo il creeper gigante, che, è ovviamente enorme, e poi abbiamo, il creeper, della primavera, che si innalza nel cielo, e poi esplode, non so perché, è della primavera, ma comunque fa, così, partiamo dall'ender creeper, l'ender creeper, come detto, si teleporta in giro, ok, avete già visto, è scappato, quindi proviamo a metterlo in un altro, gli diamo fuoco, esplode normalmente, però appunto ha questa facoltà, di teleportarsi in giro, abbiamo poi quello della pietra, quello di della pietra, ovviamente, lo facciamo esplodere qui, così vi faccio vedere, quanta pietra ti distrugge, è veramente una cosa OP, avete visto, non fa un'esplosione, semplicemente, disintegra i blocchi, ti fa droppare i blocchi, ne fa, veramente tanti, questo può essere utile, per creare spazio nella pietra, volendo, non è una brutta idea, abbiamo poi quello solare, che da vedersi è, totalmente orribile, perché ha un pannello solare in testa, ma fa una grossa esplosione, e dà fuoco, a tutto quanto, invece, quello della torta, come detto prima, è molto più, simpatico, e anche carino da vedere, e appunto, esplode, ti droppa una torta, te la piazza lì, e basta, come quello dei biscotti, che in questo caso, ti dà da mangiare, il creeper d'artificio, di fuochi d'artificio, oltre a essere orribile, quando esplode, fa un fuoco d'artificio, così, tristemente, minuscolo, quello enorme, invece, è veramente, un creeper gigantesco, un creeper normale, ma veramente enorme, si chiama Big Bad Creeper, quindi, grande e cattivo, e ovviamente, quando esplode, Giuliano, stai lontano da lì, perché potresti morire male, anzi, ok, ce l'ha fatta esplodere, fa, un danno, niente male, e spawne in giro, come avete visto, dei creeper randomici, Giuliano, no, Giuliano, che cazzo, Giuliano, perché hai fatto, perché ti sei voluto uccidere, sei stupido, aspetta che ti spengo, aspetta eh, Giuliano, vieni qui, sei un cretino, è pure scappato, pur di non farsi spegnere da me, vabbè, e infine ragazzi, lo spring creeper, tutto rosa e puccioso, quando esplode, vuole in aria, boom, e poi salta, così fa questo piccolo effetto, e con questo ragazzi, abbiamo concluso la recensione, con anche Giuliano, che ha deciso di perdere la vita, probabilmente è stato, il creeper di magma, che ha dato fuoco, al, la zona circostante, ecco, abbiamo anche prodotto dell'ossidiana, così a caso, ma comunque, questa era la, Elemental Creeper Mod, è una mod molto bella, secondo me, molto originale, tutti questi creeper, sono veramente, ben differenziati, aggiungono, varietà e divertimento, al gioco, fatemi ovviamente sapere, qual è il vostro creeper, preferito, io, sono abbastanza indeciso, quello grande, gigante, io, sono malato dell'attacco dei giganti, mi piace, però mi piace anche, quello di neve, perché mi piace la neve in sé, e non è male neanche quello reverse, volendo, perché ha un effetto molto particolare, comunque, fatemi sapere nei commenti, qual è il vostro preferito, la mod è per 1,710, la trovate in descrizione, e per il resto, lasciate tanti like, obiettivo, 8000 like, come sempre, se volete, consigliatemi anche un'altra mod review, mi manca di dire solamente, che esiste anche, il creeper fantasma, che può spawnare alla morte, di un altro creeper, ed è un creeper normalissimo, che però è trasparente, e quando esplode, non fa danno, agli ambienti circostanti, tutto qui, detto ciò, io vi saluto, ci vediamo, con questo creeper, che mi sta guardando malissimo, ci vediamo settimana prossima, con una nuova mod review, un saluto da Eren Blaze, Ciao!